buongiorno a tutti oggi piccolo e veloce intervento sulla presa accendisigari che non funziona come vedete ho acceso il motore ed il quadro è acceso ma la presa accendisigari l'alimentazione della presa accendisigari non funziona provo anche questo questa spina che ha la spia che non si accende come vedete non so se siete bene perché è una giornata luminosa ma vi assicuro che la spia non si accende qui invece dopo l'intervento che vi farò vedere la spia è accesa il mancato funzionamento della presa accendisigari è da addebitare quasi sicuramente alla a una rottura del fusibile quindi dobbiamo capire inizialmente dove trovare il fusibile che serve la presa accendisigari e quindi individuare la scatola dei fusibili che generalmente si trova sotto al volante oltre a un'altra scatola che si trova all'interno del cofano ma i fusibili che a noi interessano si trovano generalmente sotto al volante o nel cassettino portadocumenti per il modello della mia auto in questo caso una peugeot 208 mi sono documentato sul libretto di uso e manutenzione ma anche su google questo che vedete è il pannello che è applicato a pressione sotto al volante e che tiene nascosti tutti i fusibili una volta tolto il pannello vi si presenterà una situazione del genere una marea di cavi elettrici e lì sullo sfondo tutti i fusibili della dell'auto a questo punto abbiamo già superato un piccolo scoglio e dobbiamo affrontare il secondo problema cioè individuare il fusibile che serve la presa accendisigari e contestualmente dobbiamo capire di quale amperaggio è come potete vedere questi fusibili hanno dei colori diversi ed ogni colore individua un valore di amperaggio 5 10 15 ampere e così via sempre attraverso una ricerca su google per il modello della mia auto sono riuscito a trovare l'amperaggio del fusibile che serve la presa accendisigari e la posizione all'interno della scatola porta fusibili in questo caso all'amperaggio è 15 ampere e il colore il fusibile di colore blu e la posizione lf 16 che è il secondo fusibile in verticale della colonna di destra ora non mi resta che sfilare il fusibile che ho individuato e verificare che effettivamente il filamento all'interno sia rotto e dare valore all'ipotesi iniziale che avevo fatto l'accesso al fusibile non è particolarmente agevolato e inoltre non ho trovato all'interno dello sportello la pinzetta in plastica per togliere i fusibili quindi ho utilizzato prima un cacciavite poi ho modificato una spazzoletta che avevo preso in un albergo e l'ho trasformato in una pinzetta ecco qui come avevo ipotizzato il filamento del fusibile anzi del mini fusibile è rotto ora non mi resta che acquistare un pacchetto di di fusibili e sostituirlo eccomi qui un salto al casalinghi sotto casa confezione di fusibili e vai lo vado a cambiare ora non mi rimane che reinserire il fusibile nell'apposito alloggiamento dove avevo tolto il precedente e verificare se la presa accendi sicari funziona però non mi resta che rimontare lo sportellino a pressione e verificare se la presa funziona eccomi qui ora faccio la prova inserendo una spina con il led vedete si accende quindi il problema è stato risolto allora ragazzi un saluto a tutti se avete trovato questo video di una certa utilità e potete condividerlo sui social con i vostri amici iscrivetevi al canale e attivate la campanella un saluto a tutti e un appuntamento al prossimo video